Dovrebbe essere già a casa a quest'ora. Ma dove sarà andato? Aspettiamo un altro po'. Vedrai che adesso ritorna. Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo. L'avete visto? Perché ogni minuto che passa, diventa più difficile rintracciarlo. Non aspettare. Denuncia subito la scomparsa di una persona. Chiama il numero unico di emergenza 112. Commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Grazie a tutti.